E' stato presentato nella sede del sindacato unitario giornalisti della Campania il calendario solidale profughe ucraine a Napoli. Il progetto benefico è finalizzato a una raccolta in aiuto del popolo ucraino, in particolare per l'acquisto di generatori elettrici. Il segretario del SUGIC, Claudio Silvestri. L'intenzione è quella di illuminare un territorio, di illuminare una situazione drammatica e di poter fare qualcosa. La guerra è ancora in corso, l'emergenza non si è spenta, ma la tensione non si deve allentare. Quindi è un'iniziativa civile, la cittadinanza deve essere allertata su questa esigenza. Per questo siamo scesi in campo e sosterremo tutto quello che farà questa associazione. Il progetto del calendario non rimarrà però un'iniziativa isolata. Il 22 gennaio, infatti, alla Galleria Borbonica ci sarà un evento con una mostra dei quadri delle rifugiate e uno spettacolo sensoriale di un artista. Le parole di una delle organizzatrici, Ola Korenkova. Allora, le ragazze sono tutte, tranne due, rifugiate ucraine che si trovano attualmente sul territorio di Napoli. Provengono tutte dalle città diverse d'Ucraina e quindi ognuna di loro ha avuto una storia personale diversa. Qualcuno ha visto la guerra molto da vicino, quindi hanno avuto anche dei periodi in cui si nascondevano nel sottosuolo anche per più di due settimane. Sono uscite per miracolo dalle loro città, altre che vengono dalle città di Leopoli, di chi forse hanno visto un po' di meno, ma diciamo che sul territorio ucraino attualmente non c'è nessun luogo tranquillo. Quasi il 90% che sono state accolte qua sul territorio napoletano sono mamme con i figli. Tutte accolte nel primo periodo della guerra? Nel primo periodo e poi c'è stata la seconda data di adesso invernale, sì. Molte in estate pensavano che la situazione in Ucraina fosse calmata, quindi sono ritornate sul territorio ucraino e purtroppo le cose non sono andate come loro avevano previsto, quindi sono ritornate e poi si sono aggiunte altre perché attualmente sul territorio ucraino è molto difficile vivere e sopravvivere. Alla presentazione del calendario sono intervenuti anche il console ucraino a Napoli, Maxim Kovalenko e il presidente della Federazione Nazionale Stampa Italiana, Giuseppe Giulietti. Il calendario che vuole suscitare solidarietà, è atroce sentire che bisogna raccogliere i fondi per i generatori e per le coperte. Questo ci fa capire che cosa sta accadendo. Quindi noi abbiamo un compito, non solo sostenerle, ma dare voce ai molti che faticano a parlare da quel territorio invaso dalle armate di Putin. Grazie.